Proviene dalle mie ascelle, così forte, così acre. Per questo ho sempre pensato che la buona igiene sia sopravvalutata. Ma quello che veramente mi fa sentire... ...speciale è che voi vi avete ascolto, che voi ascoltate stavere. E la vostra capacità di ascolto è un'idea delle bestie di giovani, che è venite. Mamma mia, 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 mamma mia. Ghiacciolanga!